Buonasera, mezzanotte 37, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo da Torino, dove c'è già Mike Manley, il nuovo amministratore delegato della FCA. Domani comincerà gli incontri in vista del primo CDA che presiderà mercoledì. Prenderà le redini del piano industriale 2018-2022 presentato da Marchionne agli inizi di giugno. Prima del ricovero in ospedale, domani tra l'altro ci sarà il primo test sui mercati. Vediamo il servizio. Sergio Marchionne è in condizioni irreversibili. È stata un'altra giornata di dolore e ansia per i vertici di FCA. Il manager Italo Canadesi è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Zurigo, vegliato dalla compagna e dai figli. È gravissimo e che non tornerà al lavoro. Il presidente del gruppo FCA, John Elcan, lo ha voluto comunicare anche a tutti i dipendenti, oggi con una lettera piena di affetto. Saremo eternamente grati a Sergio per i risultati che ha riuscito a raggiungere e per avere reso possibile ciò che pareva impossibile. Ci ha insegnato ad avere coraggio, a sfidare lo status quo, a rompere gli schemi ed andare oltre quello che già conosciamo. Ha poi invitato tutti a seguire il nuovo amministratore delegato, Mike Manley, nella realizzazione del piano industriale 2018-2022, firmato da Marchionne e illustrato dal manager Italo Canadesi il primo giugno. Proprio poche settimane prima di quell'operazione alla spalla, per cui l'ha stato ricoverato per poi non uscire più dall'ospedale. Massima la riservatezza da parte della famiglia del nosocomio di Zurigo e da parte dell'azienda, ma il quadro è dei peggiori e si accumulano i messaggi di vicinanza. Tra questi quello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e una telefonata del presidente Sergio Mattarella ai vertici di FCA, ora impegnati a pensare a domani, con il nuovo amministratore delegato che lunedì e martedì incontrerà i top manager e mercoledì un CDA, il primo da 14 anni senza Marchionne. A Buenos Aires, per il G20 finanziario, il ministro dell'economia Tria ha parlato delle future mosse economiche del governo, anche per rassicurare gli investitori. Applicheremo il programma, ha detto, nei limiti del bilancio necessario e mantenere la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità che potrebbe poi avere effetti sulla crescita e sul debito. Ma ha aggiunto, se la crescita dovesse rallentare per la frenata globale, non prenderemo provvedimenti sulla spesa corrente, ma con gli investimenti. Quindi, se possibile, niente manovre bis, ma così probabilmente per la flat tax e il reddito di cittadinanza ci sarà da aspettare. Parole che sicuramente creeranno qualche malumore nella maggioranza, maggioranza che vede il ministro Di Maio impegnato in una nuova polemica su per quello che riguarda il decreto dignità, questa volta con il Partito Democratico. Vediamo il servizio. È ancora scontro duro tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Il segretario Demma risponde agli attacchi del ministro del Lavoro e lancia la sfida. Caro Ligi Di Maio, dice Martina, i tuoi giochi sull'indennità di licenziamento sono propaganda. Il PD difende senza pasticci le tutele crescenti, che anche voi non abolite, e le indennità le alza anche in caso di conciliazione. Vuoi confrontarti? Ecco la nostra proposta. La sostieni? Il vicepremier pentastellato in mattinata si era scagliato contro un emendamento presentato dai democratici al decreto dignità, usando parole molto dure. Il PD, aveva postato Di Maio, vuole sopprimere l'articolo che aumenta i risarcimenti per i lavoratori licenziati ingiustamente. Nel dettaglio, il decreto porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36 mesi. Come può un partito di sinistra essere contrario al riconoscimento di maggiori diritti per chi lavora? Ma contro il decreto dignità si schiera anche l'ex ministro all'economia, Pier Carlo Paduan, che lo definisce un provvedimento con carattere punitivo per l'economia. Per Paduan, la logica del decreto è quella della proibizione, con il no all'estensione dei contratti a termine, con la reintroduzione delle causale per i rinnovi, con le multe per le imprese che delocalizzano, invece che favorire il loro arrivo in Italia. Stessa idea anche per Forza Italia. Gelmini, infatti, sostiene che il provvedimento trasformerà i precari indisoccupati e causerà un boom di contenziosi. La ONG spagnola Open Arms ha specificato di non avere denunciato l'Italia per i fatti che riguardano il soccorso in mare di Giosefa, quella donna che si è trovata su un relitto accanto a due corpi. L'organizzazione, appunto, che aveva soccorso martedì scorso a largo della Libia, Giosefa, e aveva trovato le altre due persone morte, ha denunciato alla magistratura di Palma di Mallorca il capitano della motovedetta libica intervenuta sul posto dove il gomone è affondato per omissione di soccorso e omicidio colposo. Accuse che la guardia costiera di Tripoli definisce calunni e chiede una commissione di inchiesta neutrale sui fatti. L'esercito israeliano, con una operazione straordinaria, ha portato in salvo dall'altra parte del confine della Siria un migliaio di persone, una operazione avvenuta nella notte di ieri. Si tratta di quasi 800 caschi bianchi che sono quei volontari della difesa civile che per anni hanno lavorato sotto le bombe, a cominciare da Aleppo, per salvare e soccorrere i feriti e recuperare i morti. I caschi bianchi, che erano stati anche nominati per il Nobel per la pace, sono stati finanziati dagli americani, tedeschi, giapponesi e britannici e nello stesso tempo osteggiati dal regime siriano e dai suoi alleati che li considera semplicemente dei terroristi. I White Helmets sono stati portati in Giordania dall'esercito israeliano con le loro famiglie e da lì parteranno per Canada, Gran Bretagna e Germania. Adesso ci occupiamo di sport Formula 1, il Gran Premio di Germania lo ha vinto Hamilton davanti a Bottas, entrambi della Mercedes, terzo il ferrarista Raikkonen. Il pilota britannico era partito quattordicesimo, ha trionfato con una grande rimonta, ottenendo il quarto successo stagionale. Male Sebastian Vettel, che ha commesso un grave errore nel 52esimo giro, non è riuscito, pur essendo in testa, a controllare sulla pista bagnata la sua Ferrari che è finita contro le barriere. Nella classifica del Mondiale Hamilton è primo con 188 punti, 17 in più di Vettel. Ma è stata una giornata storica per lo sport italiano, soprattutto per la vittoria nel golf, un'impresa che non era mai riuscito ad un italiano. Francesco Molinari ha vinto in Scozia l'Open Championship. Sul terribile percorso di Carnus, Molinari, 35 anni, non ha commesso errori ed è stato così il primo italiano di sempre a vincere un major, uno dei quattro tornei più importanti del golf mondiale. Molinari, al terzo successo stagionale, ha chiuso il torneo in 276 colpi, precedendo l'inglese Justin Rose, il nord irlandese Rory McElroory e gli statunitensi Kinzer e Schofield, tutti staccati di due colpi a quota 278. È mezzanotte 44, noi ci fermiamo qui. L'informazione, come sempre, torna domani mattina alle 7. Arrivederci, buonanotte.